Buongiorno campioni d'Italia e non bentornati sul canale del Bauscia Nero Blu che bel risveglio, un risveglio da campioni ieri è stata una giornata eccezionale ho fatto qualche contributo non sono assolutamente bravo, lo sapete benissimo perché mi cimento da pochissimo nel montare i video ci provo e provo a farvi rivivere le emozioni di una giornata fantastica dopo quella di ieri spero che vi piaccia ragazzi a voi la visione ale 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 l'interale bevori bene a tutti ciao ragazzi che bella domenica che bella domenica che risveglio particolare non è ancora successo ma siamo veramente a tanto così un cicinin ma vedete quando vi dicevo che bello sarà quando la nostra Inter vincerà e soprattutto è ancora più bello con Antonio Conte perché quando vinciamo se non c'è nessuno che rosica è sempre bellissimo però manca quello zic di sale e invece guardate quanto stanno rosicando quanto stanno rosicando rosicano il triplo con Antonio Conte grande, grande mister grandi ragazzi Forza Inter e grandi tutti voi e soprattutto quelli che ci hanno sempre creduto avanti ai ragazzi manca veramente pochissimo forse già oggi Sì Siamo i campioni d'Italia Sì 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 Campioni d'Italia Campioni d'Italia Campioni d'Italia con largo anticipo Campionato dominato questo è uno scudetto veramente è uno dei più belli che ho vissuto è uno dei più belli dopo tutto quello che è successo mi viene da piangere siamo campioni d'Italia l'Inter è campione d'Italia ragazzi e adesso andiamo tutti quanti a festeggiare nelle proprie piazze allora ragazzi via Cesare Battisti praticamente cuore pulsante di Milano siamo dietro a piazza San Babila ho trovato parcheggio e vado a raggiungere gli altri per festeggiare questi grandissimi ragazzi e adesso io vi faccio vedere già c'è casino già da qua già da qua c'è casino poi vi farò vedere tutto dopo e mi batte il cuore ragazzi ragazzi adesso ci siamo siamo in Corso San Babila siamo quasi davanti al Duomo si vede il Duomo e adesso vi faccio vedere lo spettacolo delle bandiere neore azzure che dopo undici anni tornano a sventolare seriamente ragazzi finalmente dopo undici anni eccovi piazza Duomo festante eccola qua piazza Duomo festante stai a sventolare 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 Allora ragazzi, qua io vi presento un mio amico che da anni che non vedo, che è il grande Milozzini, il milanista e mezza di merda! Allora ragazzi, la festa è finita e adesso vi faccio vedere una cosa di Milano, perché voi dovete conoscere anche un po' di storia di Milano e qui, che è dove anticamente si facevano i mercati a Milano, proprio lo vedete il Duomo alle mie spalle, inquadriamo dove siamo, questo è un porticato storico, perché? Perché qua si facevano i mercati e voi vedete le colonne, tra una colonna e l'altra, qui praticamente la particolarità di questo posto, di questa location, come dicono i figli, è che da una colonna all'altra il suono si distribuiva meglio, e con questo io vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto, e i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, e adesso facciamo vedere il Duomo e buonanotte a tutti ragazzi, forza Inter, Magici ragazzi, Magico Mister e vaffanculo a tutti i detrattori. Ragazzi, il Bauscia vi saluta dal Duomo, è stata una festa scudetto fantastica, vi aspettiamo tutti contro la Sampa, ma soprattutto contro l'Udinese, e i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, Forza Inter!